Ciao a tutti sono giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi Delia Durama ha assistito a una scena molto particolare trasmessa in televisione che ha avuto Alex Belli come protagonista e che potrebbe non averle fatto piacere Ma di cosa si tratta? Il marito della ex Jeffina è stato beccato con più donne Ecco che cos'è successo.Chissà come avrà reagito Delia Durama allo spettacolo di suo marito attorniato da tante donne tutte contemporaneamente L'attore è stato ripreso dalle telecamere di Canale 5.Delia Durama come l'avrà presa Durante il quarto appuntamento del TV show condotto da Barbara D'Urso la pupa e il secchiona ad accompagnare gli opinionisti Federico Fashion Style, Soleil Sorge ed Antonella Elias è stato un ospite d'eccezione, un ex concorrente che ha partecipato al Grande Fratello Vip 6 Lui ha rivestito durante la puntata il ruolo di Pupo per una sera, come è già successo per l'influencer Clizia Incorbaia e per l'ex Jeffina Lulu Selassie nei precedenti episodi del gioco delle coppie di Canale 5 Il 5 aprile è toccato ad Alex Belli.L'attore di Cento Vetrine ha rincontrato al TV show Mediaset la sua ex Mila Suarez e anche la Jeffina con cui nella casa ha avuto un rapporto molto speciale che ha fatto ingelosire sua moglie, Delia Durama Non è stata però solo la loro presenza al programma che avrebbe potuto far indispettire la modella sudamericana Scopriamo cosa è successo alla Pupa e il secchione.Beccato così Il Pupo per una sera infatti ha avuto un ruolo fondamentale, perché ha assegnato alle coppie punti bonus che si aggiungono a quelli attribuiti dai tre giudici Per riuscire a convincerlo a elargire a favore della propria coppia il punteggio tanto agognato, le Pupo hanno dovuto provare a persuadere il marito di Delia Durama con una prova molto particolare Tutte le Pupo hanno dovuto fare una danza seducente davanti ad Alex, seduto intanto a guardare lo spettacolo, molto da vicino Le Pupo non si sono tirate indietro, anzi hanno tirato fuori le loro qualità di ballerina e le loro armi di seduzione per provare a vincere il punteggio extra attribuito dall'attore Il risultato è stato un balletto bollente. Cosa avrà pensato Delia nel vedere quelle immagini? Domameda che ironicamente ha posto anche Barbara D'Urso ad Alex in quel fatidico momento ma ovviamente essendo un gioco la modella venezuelana avrà capito che non c'era niente di cui preoccuparsi Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video